1, 2, 3 La relazione tra i sei a veces non è facile Nel 20 anni di carriera musical ha passato di tutto Il primo show lo suspendieron, il primo show dove io fui Nel 21 anni di carriera mentre quando celli diversa Perché quando eravamo la giornata Abbiam un deco che a tutti i produceri Non é vovamo aanza Un 100 km It could have been music for a children's program, with a titan name like Los Amigos Invisibles and the manga thing, could be. Listened to it and immediately gave it to Yale at Luaga Bop and said, check this out. In four, in four, in four. ¡Alberto de Rayo! Mira mami, en cuatro. En cuatro. Mira mami, en cuatro. En cuatro. Mira mami, en cuatro. En cuatro. Mira mami, en cuatro.